Che ce l'avevo in inglese, cioè... Dove sei, suino? Uh, non vedere un lupo da così tanto e poi vedere all'improvviso, madonna, ti scombussola sta cosa. Oddio! Ma non mi ha visto? Ciao, ciao, proviamo. Ehi, gente, questo è Vio. Ben ritrovati sul lato survival e basta del canale. Come una puntata di The Long Dirk, il lungo buio, il gioco del freddo perenne, il Canada molto freddo, chiamatelo come volete, modalità storia, Wintermute. Quindi, se non sbaglio, l'ultima puntata abbiamo recuperato una lancia leggendaria, leggendaria, l'abbiamo riparata, era rotta, l'abbiamo riparata con dei pezzi di ferro di scarto e plausibilmente questa lancia riciclata dovrebbe essere in grado di uccidere un orso leggendario che non si fa penetrare neanche dai proiettili di un calibro di un fucile, però i giochi sono giochi. Non l'ho ancora testata, tra l'altro, probabilmente la utilizzerò perché ce l'ho ancora nell'inventario. E niente, adesso il signore Jeremia, quanto pare mi devo rivedere la scena perché ho visto che mentre l'ho messo in pausa c'era una cazzi, il signorino Jeremia ci affidava l'incarico importante di recuperare tre pezzi di radio per amplificare la potenza del segnale a radio e così forse passare al prossimo capitolo. Quindi, vediamo che cos'ha da dire il signorino Joe e Maya. Ciao, bello! Sì, l'abbiamo già vista questa parte. È strano. È strano. No, no, no. Quindi, l'abbiamo già vista. Capitolo 3, segnale rumore. Pensavo di aver salvato la partita, infatti quando ho premuto continua è ripartita da qui per qualche motivo. Aspita, sono fregato. Allora, Jey, segnale rumore. Jeremia ha un piano per mandare McKenzie a Perseverance Mills. Perseverance. Come cavolo si pronuncia? Perseverance Mills. Ma se il pilota lo seguisse potrebbe finire per scotterarsi con il vecchio orso. Quindi, torre sud-ovest, torre nord, torre sud-est. Andiamo. È buio? Che ora è? Ma no. Eh sì, si sta facendo buio. Che dite? Proviamo il buio. Proviamo il buio. Che ce frega? Noi siamo veri uomini. Ce ne frega niente a noi. Ah, proprio premendo anche click. Ah, click normale. Devo premere. Ok, click sinistro non funziona. Mi sono spaventato per quelle pietre. Pensavo fossero delle tracce di sanglius. Cos'è? Sto sanguinando? È un punto di svantaggio questo, effettivamente. Se ci fosse un lupo sulla collina che mi avvistasse sarebbe molto difficile spararli. Punto 1 per l'altezza discendente mentre mi carica. Punto 2 per... Per la presenza di così tanti alberi. Poi questi bastardi sanno fare idorifto, quindi mi fregano abbastanza. La corsa di un diabetico che è appena cenato. Questo è. Poi per non parlare della fiatella. Non immagino... Non immagino di cosa sappia. Chissà da quant'è che non ti lavi i denti, Frank. Effettivamente è un pilota che è precipitato. Dubito che riesca a trovare il dentifricio in una taiga canadese. Tra l'altro nel mezzo dell'apocalisse. E niente, andiamo a queste due torri. Tre torri. Le tre torri. Il signore degli agnelli. Ok. Dove devo andare? Qui c'è qualcosa. Proviste di forest stalker. Eh, le hanno messe i tre estremi di forno maschi. Probabilmente andrò prima giù. Qua. Qua. E poi tornerò qua. E farò il viaggio di ritorno. Sì. Questa è l'idea migliore. Anche perché è rilevante. In ogni caso dovrò fare un bel po' di distanza. Il problema qual è? Che sta calando la notte. Molti di voi diranno. Ma non è un problema. È un problema. In forno maschi fa molto freddo. Specialmente di notte. Poi con i ghiacciai. Dovrò fare un viaggio abbastanza cauto. Quindi sto andando nella direzione giusta? Sì. Nella direzione giusta. Ok. Posso bere il caffè direi? Visto che ho fatto una bella corsa. Non avevo un caffè. Non sono sicuro. Sono sicurissimo che avevo un caffè. Ok. Mi stavo preoccupando. Bevendo. Ok. Affaticamento ridotto. Ho recuperato un po' di energia. Quindi per me va bene. È stranissimo. Non vedo lupi in giro. Questa cosa è troppo sospetta. Lì ho visto qualcosa. Era un bug grafico? Potrei tagliare un pezzo di abete. Effettivamente per fare cosa? Per farmi l'arco? Per metterlo a essiccare e farmi l'arco. Ma non avrebbe molto senso visto che ho già il fucile di mio. Quindi non mi servirebbe a molto. Pensando. Che è successo? È calata la nebbia all'improvviso? Poi vi starete chiedendo. Come mai brutto scemo è la lancia equipaggiata? Me lo sto chiedendo anch'io onestamente. Cioè. Vorrei in realtà provare anche con dei lupi. Magari. Cioè. Questa. È impalare. Magari se il lupo mi carica e metto la lancia così uccido pure il lupo. Vorrei davvero provare. Che stanchi è? Oh mio Dio. Dalla minima barretta di cereali. Il mio caramello. Quello è un cervo. Però è carino. Cioè. Come dire. È artistico piazzato lì. In cima alla scogliera. Non è una scogliera. Mi veniva da dire scogliera. In cima alle rocce lì. È artistico praticamente. Sembrava quasi un disegno. Dai che non mi spacco la caviglia. Dai che non mi spacco la caviglia. Crack. No? Je suis un uomo molto fortunato. Allora mettiamo la lancia di ruolo. Salvataggio. No. 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 Salvataggio no. No. Non mi convincio questa cosa. Salvataggio perché? Perché salvataggio Frank? No 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 no. Discutiamo di questa cosa. Belvedere di Maskig. Non ce l'avevo in inglese il gioco. Mi ricordo che ce l'avevo in inglese. Cioè. Dove sei? Suino. Non vedere un lupo da così tanto e poi vedere all'improvviso. Madonna ti scombussola sta cosa. Oddio. Ma non mi ha visto? Ciao. Ciao. Proviamo. No. No. Oh. Oh. Che è stato? Ha visto che ho messo il pisello così a terra? Si è spaventato. Oddio mio. Ok. Ok. Componenti per il ripetitore. Adesso facciamo la scalata rischiosa. È vero. Tra l'altro non ho controllato se ho cose. Iniezioni mediche. Mi pare di averle usate tutte perché sono un cretino. Sì. Ora che ci penso sono abbastanza sicuro che le ho utilizzate tutte. Perché avevo fatto l'idiota. Sì sì. Una volta per scalare tipo una specie di. Come si chiama? Di. Caspita. Una specie di. Quindi non posso più utilizzare la lancia perché ho male al polso. Caspita. Devo per forza dormire. Prendiamo l'antidolorisci per il dolore. Cosa? Frank. Ah il dolore. Ma smettila. Cioè a quanto pare bere cosa? Utilizzare i medicamenti scegliendo come dire il trattamento. Io posso scegliere per esempio bevo gli antidolorifici. Sì è poco naturale come cosa ma dico posso scegliere di utilizzare gli antidolorifici per il male al culo. Oppure per non lo so per essermi per un osso rotto che è uscito fuori. Ovviamente non funzionando sull'osso rotto perché non è dolore. Funziona solo per il male al culo perciò se lo uso per il trattamento sbagliato non avrà alcun effetto. Infatti ho utilizzato per il polso slogato. Ma per il polso slogato mi pare che servono le bende in realtà. Se lo voglio trattare oppure due ore di recupero. Non potrei tenere in armi. Sei tu che dici che non potrò tenere in mano armi. Ho visto qualcosa lì? Beh i lupi stanno iniziando a comparire e questa cosa non mi piace. Vediamo. È ancora buio. Cioè è ancora buio. Sta calando la notte brutta brutta. Andiamo alla casa degli Spence. Ce l'ho il sacco a pelo. Non ho il sacco a pelo. Dove l'ho lasciato non mi ricordo. Quindi non avendo il sacco a pelo. Onestamente mi pare che ci sia un letto di paglia nella casa degli Spence. Ora che ci penso. Andiamo nella casa degli Spence a dormire un paio di ore. Mi pare che ci sia. Non ne sono sicurissimo. Cioè non ci scommetterei la vita. Però tanto è di strada. Non mi costa niente provare. Ho tanti antibiotici. Posso improvvisare una droga se vuoi. Corriamo fino a lì. Due. Tre. Quattro. Dura cinque secondi prima di cadere dentro l'acqua. E bagnarsi tutti i vestiti ovviamente. Successivamente congelarsi. Ma dura cinque secondi. Se entro cinque secondi dalla comparizione di quell'icona. Noi non ci leviamo dalle scatole. Da un ghiacciaio fragile. Cadremo nell'acqua. Respauneremo nell'ultima zona sicura in cui ci trovavamo. Con i vestiti completamente bagnati. Fradici. E ovviamente se la temperatura è sotto zero. Inizieranno a congelare. E ovviamente dopo arriverà l'assideramento. E un po' meno ovviamente. Ma abbastanza consecutivamente potrebbe arrivare anche alla morte. Se no abbiamo un posto dove ripararci. Per esempio in forno maschi. Che non c'è una beata. Ciolla. Ma c'è solo neve neve neve. L'unica cosa utile in questa regione effettivamente è. In realtà ogni regione ha qualcosa di utile. Però a parer mio dal mio punto di vista di gameplay. L'unica cosa utile è la forge nella casa degli Spence. Mi sembrava un cervo. Invece era solo un carro. Ammazza. Mi sento come uno strafatto di LSD. Vedo cose che non ci sono. Cartucce per fucile. Che raccolgo ovviamente immediatamente. Ogni tanto spona un oggetto raro su quello scaffale. Cappotto militare seminuovo. La domanda è. Pesa 2 kg ma quanto è buono? Per raglia. Copri orecchie. Vediamo questa roba. Aspettate. Ok ho già 2 copri orecchie. Ah no ho recuperato automaticamente l'altro. Cappotto militare 2 kg. 2 kg in compenso dà molto di più. Questo qui pesa un chilo e mezzo. No pesa troppo. Cioè è molto utile sicuramente lo trovassi. Modalità interloper lo terrei sicuramente però. In questa modalità no. Non ho intenzione di tenere. Ok sì avevo ragione c'è davvero coso. Un letto. Non è di paglia come mi ricordavo però c'è un letto. Vediamo sotto se c'è qualcosa. Scarpe da trekking. Che non ho il minimo interesse. Allora direi di dormire un pochino. Innanzitutto droppiamo il cappotto militare seminuovo. Allora una cosa che non vi ho detto è che se abbiamo poco peso di inventario. Corriamo molto più velocemente. Quindi se io droppassi tutta la roba e non avessi oggetti con me sarei molto più veloce nella corsa. Infatti sarebbe intelligente viaggiare così. Ma io non sono una persona intelligente come potete avere intuito dai miei video. Vediamo se becco un lupo lo cecchino da qua sopra. Con un lupo? Proviamo. Che dite proviamo? No c'è troppo sway c'è troppo sway c'è troppo sway c'è troppo sway. Oddio. No allora concentriamoci. C'è troppo sway. Non è neanche arrivato ok non ha raggio. Non ci arriva neanche a fin lì il colpo. Perché se fosse arrivato ci sarebbe come dire ci sarebbe stata una nuvola non di fumo ma di neve comunque. Quando colpisce il terreno si vede. No 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 no. Frank. Voilà. No devo premere. No questo è una fregatura. Ah devo tenere premuto ho sbagliato. Devo tenere premuto io invece stavo premendo mi mostrava di premere. L'ho ucciso. Cos'è l'ho ucciso qui? Ah è ancora vivo il bastardo. Cioè gli ho palesemente. Gli ho palesemente bucato il petto. Il cuore e quello lì era ancora vivo. Però è spawnato davanti a me avete visto? Non appena mi sono vicinato alla torre radio è spawnato. E ne abbiamo preso un altro. Però visto che la faccia lì si è sporcata di sangue. Quindi mi verrebbe da pensare che. Mi attacca una sola volta. Beh adesso fa molto freddo però direi che riesco. Dove? Ma di nuovo? Vabbè. Attacchiamolo tanto non mi costa niente combatterlo. Non mi aspettavo che avrebbe attaccato un'altra volta. Quanta volta mi attacca questo? Così presto tra l'altro. Ma si rompe la lancia. Ha un numero limitato di utilizzi. E... Armi dov'è? Dov'è che mi mostra la lancia? Non mi mostra dov'è la lancia. Beh e diciamo che se... Ancora! Ma quant'è che mi attacchi Frank? Non riesce a mi stare. No. Fermo. No! È game over. È game over. Non ci credo. È game over. Oddio mio. Eppure stavo tenendo la lancia. Sei morto per dissanguamento. Mierde. Tutto tranquillo. Allora non posso permettermi di correre perché se rimango senza stamina sono finito. No, non è una frega niente questo qui. No, no. Mettiamo una lancia. Vai, 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 vai! Ma cos'è? Dai! Mi hai girato in tondo prima di attaccarmi. Ma guarda te. Vieni bellissimo. Ti aspetto. Con tutto l'amore del mondo. Ok. È un bullo sto stronzo. Guardatelo. Non mi dà neanche il tempo di respirare. Oddio mio. Non mi fa neanche recuperare l'energia che già mi ha attaccato di nuovo. Ma ad un certo punto muore oppure mi attaccherà all'infinito finché non avrò raccolto i tre transistori e mi sarò levato dalle scatole. Ma sapete cosa? Facciamo una scalata veloce. Anche perché non ho molta energia. Che a quanto pare durante gli attacchi non si recupera l'energia. Oddio. Troppo alto. Non so questa vista. Perché la mia vista si è offuscata? Ho male a qualcosa? Non credo. Non è brutta sta cosa che non posso dormire ovunque. Cioè ecco. Ok sulla neve ancora ancora ha senso. Però dico. Ovunque nel senso. Su delle sbarre di legno. Magari influisce sulla qualità del sonno e ci sta. Però dovrebbe esserci la possibilità di dormire ovunque. Non passare il tempo. Invece. Ok. Non mi piace questo che sto vedendo. Mi sembra di essere entrato in una terra dannata. Il buio che è calato. Davvero mi sembra di essere entrato in una terra maledetta degli indiani. Roba tipo prima stagione di The Terror. In realtà erano schimesi. Non erano indiani. Però dai. Ci siamo gabite. Ci siamo gabite. Dai che potrebbe essere. Sicuramente deve comparire. Non mi prendere in giro. Sicuramente deve comparire l'orso adesso. Oh mio dio. È stato questo cervo a spaventare. Oh. Mi ha spaventato. È comparso da dietro il ceppo sto qua. Dai muoviti. Ok. L'abbiamo di nuovo affrontato. Ma secondo voi ho avuto fortuna a non incontrarlo al primo raccoglimento del ripetitore. Oppure semplicemente non con... Di nuovo. Frank fammi respirare. Di nuovo. Oh. Oh. Fammi recuperare un po' di energia. No sta caricando. È cattivo. È incazzato. È malvagio. Eccolo. È immortale secondo me. Comunque a questo punto mi sto davvero decidendo. Cioè. Sono abbastanza sicuro che sia immortale. Ogni assalto lo fa solo scappare via e temporeggiare. Ok. Componenti per ripetitore. Boom. Torniamo da Geremia. Facciamo questa strada così non l'incontrò più questo orso maledetto. Salvataggio. Non mi piace. Non mi convince la cosa. Di nuovo salvataggio. Lo sta facendo troppo spesso. Non mi convince sta cosa. Mi sta salvando la partita troppo spesso. Quindi sono abbastanza convinto che tra poco mi attaccherà. All'imperfetto. Perché non l'ho ancora incontrato. Quindi mi sto convincendo che non lo incontrerò. Cioè. Spero di non incontrarlo. Mal che vada. Corro alla prossima regione. Me ne frego. Me ne sbatto altamente. Allora. Ehi. Bastinco. Lancia. Lancia. Che stai facendo? È colpa mia. Ho sbagliato io qualcosa? Cosa? Cosa ho sbagliato? Non ho capito. Fa parte della storia, vero? Fa parte della storia. Papa. Fa parte della storia.